Abbiamo una certa preoccupazione, è chiaro che a vedere la mappa del Veneto, praticamente tutte le città sono in quella condizione, eccezione delle città dove c'è forte ventosità. L'inversione termica in questo momento è un problema, vediamo le temperature in montagna e soprattutto non c'è possibilità nei prossimi giorni di tornare indietro a questa situazione. Smog alle stelle, è scattata a Treviso l'allerta rossa, dopo dieci giorni consecutivi di sforamento dei valori delle polveri sottili partono le limitazioni al traffico previste dal livello più alto d'allarme per l'inquinamento dell'aria, stop alle auto a benzina fino a Euro 2, ai veicoli diesel fino a Euro 5 compresi, i mezzi commerciali per i quali però la limitazione termina alle 12.30, numerose le deroghe previste e consultabili sul sito del comune. L'inquinamento dell'aria in questi giorni è preoccupante, tanto che i sanitari consigliano di utilizzare le mascherine all'aperto, altra questione al vaglio del comune è quella della ricreazione all'aperto per gli studenti. Quello è l'USL che lo determina, a quel punto il sindaco dovrebbe prendere questo provvedimento, stiamo anche valutando la questione scuole perché chiaramente i bambini all'esterno sono un altro tipo di situazione però con gli scaldamenti accesi rischiamo di fare l'esatto contrario, quindi è tutta una seria valutazione di quelli che sono gli effetti e le cause e quali sono i migliori benefici.